No, il culo, metto due cuscini sotto il culo, il culo viene su, e così si apre di più, viene più verso te. Tu mettici due cuscini sotto la picca qua, che si mette un po' con il culo, stesa così per terra, no? Sì, con la schiena e il soffitto, e tu ti metti dietro. No, no, ma sta su lei a cartone, sta su lei a cartone, così. No, no, sta lei a cartone coi piedi.